Ascurelle, un servizio sociale a favore di adulti ed anziani in difficoltà. Il servizio di social housing sarà gestito dalla PSP San Lorenzo e Santa Maria della Misericordia di Borgo Valsugana. Sarà attivato a breve a Ascurelle al secondo piano del centro di urno e poliservizi per anziani Giuseppe Tognolatti. Se ne parla da oltre un anno e mezzo, ora c'è il progetto definitivo ed anche il business plan. La spesa per attivare il servizio a carico della PSP sarà ammortizzata in 25 anni. Nei locali saranno realizzate sei stanze con diversi spazi comuni come cucina, soggiorno e la sala da pranzo. Due posti sono riservati a persone e famiglie segnalate dal comune di Scurelle. È il primo servizio di questo genere attivato in Balsa Valsugana e Tesino per dare la possibilità ad adulti ed anziani in difficoltà di sperimentare una nuova forma di convivenza. Progetti di co-housing basati sul mutuo aiuto e sulla partecipazione attiva da parte degli inquilini ad una comunità.